e riviusi a smr salve a tutti buongiorno come state? spero tutto bene oggi andremo a fare un bel monsanto super space spaziale siete pronti ad iniziare questo viaggio? vedrai 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 c'è un po' di più Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.